è uscito un video su un canale che probabilmente alcuni di voi conosceranno dove una certa persona, un collega, manda determinate frecciatine palesemente alla mia persona, a questo canale e anche ai vari canali che parlano di Tolkien fra l'altro ha anche delle accuse accusandomi di aver mandato persone da questo canale sul suo canale, cosa che in realtà non ha insultato giù di lì, che non ho mai fatto quindi ci tengo a dire a questo collega che in simpatia chiamerò Bamboccio ci tengo a dire, caro Bamboccio, questo collega si è chiesto nel suo video di cosa parleranno i canali che hanno parlato di questa serie dopo questa serie cioè si è chiesto a questo canale di cosa parlerà dopo questa serie che probabilmente da quello che lui dice scomparirà ebbene, come dicevo, caro Bamboccio vuoi davvero sapere di cosa parleremo noi tolkieniani dopo questa serie? ebbene, parleremo di Tolkien o meglio, torneremo a parlare di Tolkien esattamente come facevamo prima di questa serie una cosa che in realtà a te non è mai interessata perché l'unica cosa che a te interessa sono le visual, sono gli iscritti è l'unica cosa che ti è sempre interessata e si capisce anche della tua insofferenza a dover parlare a tutti i costi di questa serie perché, come hai detto tu stesso, questa serie ti porta visual, ti porta guadagni anche da parte di coloro che ti insultano quindi, l'hai detto stesso tu, sei costretto a parlarne altrimenti le bollette non le paghi quindi, caro Bamboccio rispetto a te, che continuerai a fare il piccolo ratto che rincorre ogni piccolo pezzo di formaggio anche ammuffito e che ti fa schifo solo perché è l'unico modo per pagare le tue bollette ecco, rispetto a te io tornerò a fare esattamente quello che ho sempre voluto fare parlare di Tolkien e motivo per cui ho aperto questo canale e ti assicuro, caro Bamboccio che non c'è cosa più bella di poter fare e dire quello che si vuole è quello che veramente ti piace perché ne vale della propria dignità del rispetto per te stesso e soprattutto del rispetto per coloro che ti seguono e che ti pagano le bollette un rispetto che tu non hai avuto non nei miei confronti che poi alla fine ho avuto la sola colpa di praticamente di farti notare che hai detto una stronzata ma un rispetto che non hai avuto appunto nei confronti dei tuoi iscritti che si sono ritrovati una persona che li ha mentiti per tutto il tempo nel modo più spudorato senza alcun tipo di vergogna quindi ti invidio Bamboccio ti invidio sinceramente ti invidio questa capacità di mentire che io purtroppo non ho e quindi caro Bamboccio tu tornerai a parlare di qualsiasi tipo di argomento ti porti guadagni anche quelli di cui magari non te ne frega un cazzo mentre io tornerò a parlare di ciò che mi piace di ciò che mi appassiona e ti assicuro che non c'è sensazione più bella e chiudo questa breve riflessione che ti ho dedicato dandoti un consiglio da persona un po' più grande di te la prossima volta che qualcuno ti fa notare che hai detto una stronzata piuttosto che farti umiliare e disintegrare ulteriormente la tua dignità dici semplicemente ho sbagliato ho detto una stronzata detto questo pace e amore